E' pronto ad essere scritto il secondo capitolo in maglia VL di Austin Day e la terza vita pesaro del Cerbiatto dopo quella trascorsa in città da neonato a respirare le gesta di papà Darren nel trascinare la Scavolini nei suoi due storici scudetti. Austin Day vestì da trascinatore la casacca bianco-rossa nel 2015-2016 tornerà a farlo dopo sette anni e alla soglia dei 35 anni dopo una stagione trascorsa nel campionato di Taiwan e di fatto già archiviata vista la rescissione dal contratto con i New Type-A Kings propedeutica alla firma con la VL e al ritorno in Italia dopo i titoli vinti da protagonista con Venezia. Pesaro ha scelto Day e lo ha scelto con la formula del turnover senza piegarsi al 6-6 che comprometterebbe la corsa al premio per l'utilizzo dei giocatori italiani che ad oggi la vede in testa a questa graduatoria. Le pratiche di tesseramento sono i dettagli ma impossibili da materializzare nell'immediatezza della gara con Varese. Si punta a vedere ridebuttare Deja Pesaro il 18 marzo con Brescia.